C'è tutto lui, quando uno dice che c'è tutto lui, c'è tutto lui, giusta direttore d'incontro? Non è questa? Coordinatore di manifestazione, adesso inquadro dove mi hai detto tu, lì è dove dovrai stare, vediamo gli avversari, il coordinatore della manifestazione dell'incontro, Baldo Coppari, il meglio. Se viene uno, sceglie l'abito, ok? Vediamo cosa viene.